Buonasera, grazie soprattutto a voi di essere qui nonostante il tempo poco clemente. Cosa vi racconterò stasera? Vi racconterò una storia che a me affascina perché mi permette di mostrare quello che io considero una delle magie dell'essere paleontologo, questi strani giochi dell'evoluzione che dimostrano la varietà, la diversità e come si modificano gli organismi sotto la pressione dell'ambiente lavorando con organismi anche piuttosto strani ma molto belli che sono i mammiferi preistorici. Giusto perché è una conferenza per tutti, forse è inutile ma è sempre meglio chiarirsi il titolo parlava di convergenza evolutiva e di invasioni alieni. In che senso io parlo di convergenza evolutiva? Nel senso logico. Quello che vediamo oggi è un fatto che si verifica sempre quando ci sono le condizioni adeguate, cioè organismi che sono tra loro lontani filogeneticamente, quindi non sono parenti, vivono in ambienti separati ma sotto le stesse pressioni ambientali sviluppano forme molto simili quando occupano le stesse nicchie ecologiche. Mi sono permesso di fare questo piccolo esempio andando a prendere l'Australia. Noi in Australia abbiamo il lupo marsupiale, avevamo perché è stato estinto nel 1936, l'ultimo esemplare morto allo zoo di Sydney, poverino, ma però abbiamo il lupo marsupiale che funzionalmente era molto simile al nostro lupo. Il diavolo di Tasmania sono tutti marsupiali, quindi non imparentati con i mammiferi che conosciamo, placentali dell'Europa Asia-Africa, però svolgono lo stesso ruolo. Il diavolo di Tasmania è un brontolone notturno, il tasso è un notturno silenzioso. Il dasiuro è l'equivalente del gatto e della lince in Australia. Il bandicoot è l'equivalente della nostra lepre, addirittura abbiamo dei formichieri marsupiali e il koala, questo simpaticone che ci prendiamo in braccio e ci graffia anche, cos'è? È un arrampicatore lento che vive di foglie, più o meno come il bradipo. Quindi il concetto di convergenza evolutiva e di equivalenza ecologica è molto importante per quello che racconterò io oggi. Anche in Nuova Zelanda, dove non sono mai arrivati i mammiferi, tranne i pipistrelli che volando arrivano dappertutto, al posto dei grossi mammiferi erbivori, dei medi mammiferi erbivori, dal tacchino al bue, c'erano questi grandi uccelli non volatori, occupavano tutte le nicchie. Le invasioni aliene, avete di là la mostra molto ricca e recente, cioè mirata su cosa sta succedendo adesso, ma le invasioni aliene ci sono state in tempi storici e come vediamo oggi anche in tempi preistorici. In tempi storici, per esempio mi piace citare l'Australia ai miei studenti, di cui ce n'è qualcuno disperso fra la folla, sa bene, in tempi storici e protostorici l'Australia è stata vittima di numerose invasioni e gli invasori, come potrebbe essere oggi lo scoiatolo grigio versus scoiatolo rosso, gli invasori a volte diventano altamente competitivi e portano ad esclusione delle specie autoctone. Per esempio il dingo, che era un cane selvatico importato dagli aborigeni, è stato lui la causa iniziale del declino del lupo marsupiale, che è rimasto solo nelle zone dove il dingo non arrivava. Dopodiché l'uomo ci ha messo del suo, come vedete il cacciatore orgoglioso sotto, e quindi è finita. I ratti, la Nuova Zelanda era priva di mammiferi, ho detto, tranne i pipistrelli che arrivano sempre dappertutto volando. I ratti hanno causato disastri immensi in Nuova Zelanda, nutrendosi dei grossi insetti erbivori, scacciando il mio amico Tuatara, scusate, il mio amico Tuatara, eccolo qua, mio amico perché io studio i rettili del Triassico, lui viene dal Triassico, scacciando il mio amico Tuatara, cancellandolo dalle grandi isole, lasciandolo solo sugli isolotti, che diventano sempre di meno, man mano che i ratti ci arrivano. Lo stesso dicasi per l'unico pipistrello terrestre, perché non avendo predatori non volava, mistacina, l'unico pipistrello terrestre viveva in Nuova Zelanda, è stato ridotto anche le uscole isolette, quindi invasione aliene portano a estinzione. Tutto questo è preambolo, cioè adesso che sapete il senso della mia chiacchierata, andiamo al sodo. Il grande interscambio biotico americano. Cosa succede? Già ai tempi dei dinosauri, quindi oltre 65 milioni di anni fa, i mammiferi avevano già cominciato ad evolversi e a differenziarsi nei gruppi più primitivi. I mammiferi sono comparsi insieme i dinosauri, non sono comparsi dopo i dinosauri, soltanto i dinosauri hanno dominato le nicchie degli animali grandi, medi e diurni soprattutto, e i mammiferi sono rimaste le nicchie degli animali piccoli e notturni, quindi avevano poco spazio. Però avevano già incominciato ad evolversi, c'erano già vari gruppi di mammiferi distinti, tra cui i gruppi che avrebbero dato origine ai mammiferi moderni, i più antichi marsupiali, i primissimi placentali. Poi 65 milioni di anni fa, i dinosauri si stinguono, non solo i dinosauri, come ben sapete non è stata l'estinzione dei dinosauri, è stata un'estinzione di massa in cui si sono estinti anche i dinosauri e ritrovamenti tipo questo indicano che potrebbe essere stato un meteorite, oppure in realtà anche eruzioni vulcaniche, ma è una storia lunga che non è in tema stasera, comunque qualcosa o una serie di eventi ha fatto sì che ci fosse un'estinzione di massa, che le faune cambiassero e i mammiferi si sono trovati in campo libero per dar luogo a quella radiazione adattativa che porta a tutta la diversità che vediamo oggi, a un po' di forme scomparse, a me che vi parlo e così via. Intanto con la scomparsa durante le prime fasi dell'evoluzione dei mammiferi, quando già ancora c'erano i dinosauri, i continenti meridionali, i continenti settentrionali avevano già incominciato a separarsi pur tenendo qualche connessione a questo livello. I continenti meridionali che formavano tutti un unico supercontinente, la terra di Gond o Gondvana, incominciano a frammentarsi, in pratica si apre l'Atlantico meridionale, l'oceano della Tetide pian piano si cancellerà e avremo l'oceano indiano e ogni continente si porta con sé la sua fauna di mammiferi più o meno evoluti, più o meno primitivi. Il Sud America si separa dall'Africa, dal Nord America e dall'Aurasia prima con una popolazione di mammiferi piuttosto primitivi, ancora più i marsupiali attraversano l'Antartide e arrivano in Australia, poi resteranno là, l'Australia si stacca e loro vivranno la loro vita di splendido isolamento finché non arriverà l'uomo, prima i nativi, poi gli europei con la sua fauna a mammiferi. Il Sud America si stacca poi dall'Antartide e rimane isolato con una fauna mista, mammiferi marsupiali, tra virgolette, placentali, però non ha più scambi né con il Nord America né con l'Africa o l'Asia, quindi evolve una fauna tutta sua che si è sviluppata in condizione di isolamento dove dalle radici comuni ai mammiferi degli altri continenti, sono nati alberi differenti, cioè ha dato luogo a gruppi differenti che però nella maggior parte occupavano le stesse nicchie ecologiche dei mammiferi degli altri continenti con una eccezione che vediamo poi, che vediamo qui, che sono un gruppo specializzato, lo vediamo poi, però queste forme sono mammiferi placentali, lontanissimamente imparentati con i rinoceronti e i cavalli, però hanno seguito una loro evoluzione completamente distinta. Per esempio, in Sud America non c'erano carnivori placentali, cioè non c'erano carnivori dell'ordine carnivora, felidi, canidi, orsi, procioni, eccetera, eccetera. Le nicchie occupate dai carnivori placentali negli altri continenti in Sud America erano occupate dai marsupiali. Cosa curiosa, il gruppo apparentemente più primitivo era al top della catena alimentare. Avevano forme più o meno simili, struttura più o meno simile, poco variata tra loro, cambiavano le dimensioni, andavano da una faina a grossi come un orso. Negli altri continenti avevamo le tigri dai denti a sciabola e noi non ci facciamo mancare nulla, per cui abbiamo dei marsupiali dai denti a sciabola. Il tilaco è un nome che spesso viene associato il lupo marsupiale e il tilacino, e questo è la tigre ai denti a sciabola marsupiale, tra virgolette, metto tra virgolette perché non abbiamo idea se fossero realmente marsupiali. Hanno alcune numerose caratteristiche scheletriche dei marsupiali attuali, però non abbiamo indizi di un marsupio, per cui qualcuno li chiama anche sparassodonti, legato al fatto che hanno gli incisivi in numero diverso, come i marsupiali. Comunque sì, avevamo delle vere tigri, cioè delle vere riproduzioni delle tigri dai denti a sciabola marsupiali, strutturate allo stesso modo. Addirittura queste tigri dai denti a sciabola marsupiali avevano gli enormi canini più enormi di quelli delle vere tigri dai denti a sciabola. Erano grossi come i giaguari e cacciavano e vivevano come le tigri dai denti a sciabola, di cui non si sa bene come cacciassero e vivessero, però se veniste a mia lezione ci faremo due ore su come cacciavano i tigri dai denti a sciabola. Insieme ai carnivori marsupiali c'erano anche strani, siccome la nicchia dei carnivori era riempita appunto solo da questi marsupiali, c'erano al top della catena alimentare c'erano anche degli uccelli giganti, degli uccelli carnivori giganti affini alle gru, dei gruiformi, i fororacidi detti non in maniera sbagliata terror birds perché averci a che fare non sarebbe stato carino, poi gli uccelli sono abbastanza spietati nella caccia. Il rappresentante vivente, tuttora vivente, il loro parente stretto tuttora vivente è quello lì, il Kariyama, che grazie al cielo è alto circa un metro, quindi non crea grossi problemi a noi, li crea le lucertole, i topi e così via. C'erano anche i cocodrilli con le gambe lunghe e inizialmente in Sud America poi si estingueranno i più grandi serpenti mai esistiti, lunghi come un autobus doppio, questo è Titano Boa che è una ricostruzione ovviamente che hanno messo in un aeroporto a accogliere i turisti. Ma andiamo ai mammiferi. Dicevo, evoluzione convergente, da una parte i marsupiali sviluppano forme più o meno convergenti con i carnivori, dal punto di vista degli erbivori ungulati esisteva un gruppo che si chiama litopterni, difficile da dirsi, che si differenzia seguendo la stessa linea evolutiva, cioè parallelismi con gli ungulati degli altri continenti, con ad esempio abbiamo dei litopterni che seguono la stessa linea evolutiva dei cavalli, cioè partono con quattro dita, passano a tre dita, a un dito solo, aumentano la taglia, specializzano la dentatura da passaggio da foresta a prateria, le pampas e così via, quindi ambiente con vegetali più coriacei, maggiori dimensioni. Nello stesso identico modo dei cavalli, la somiglianza, quello sopra è il cranio di un cavallo fossile contemporaneo del litopterno fossile sotto, la somiglianza è una somiglianza funzionale, devo fare le stesse cose, sarò molto simile e la somiglianza estrema anche, l'ipidione euroasiatico, proteroterium è sudamericano, se guardo i denti trovo la stessa struttura nei denti perché serve a triturare le foglie, coriacee della prateria e quindi abbiamo queste mezzelune e così via, quindi somiglianza veramente stupefacente partendo, cioè pur non essendo imparentati, sono partiti da un antenato comune molto lontano, hanno seguito una via indipendente e sono arrivati allo stesso modello funzionale. Poi certe volte si sono creati dei crossover, potremmo dire, ovvero sia questo strano animale dal nome impronunciabile, però io lo pronuncio, Macrauchenia, ricordava da una parte i cammelli, dall'altra le giraffe, ma data la posizione della narice in mezzo agli occhi si ritiene avesse una corta proboscide come i tapiri. In effetti era di chi era equivalente ecologico a questa specie di design complesso. In Africa si avevano le giraffe, in pratica sono dei brucatori alti, in Africa si avevano le giraffe, le abbiamo tuttora, i cammelli non lo sappiamo ma qualcuno non lo sa, qualcuno sì, i cammelli sono nati in Nord America, non sono asiatici africani di origine, comunque in Nord America avevamo dei cammelli dal collo alto, non si sa se con gobo o senza perché non si conserva, e Macrauchenia faceva la giraffa cammello e anche un po' tapiro in Sud America. Perché la proboscidina? La proboscidina perché probabilmente, ovviamente io ve lo dico non come verità, perché purtroppo al paleontologo non hanno ancora fornito, io l'ho chiesto spesso, ma non me l'hanno mai data la macchina del tempo, ovvero sia, il paleontologo fa delle ipotesi più possibile fondate, il più possibile cerca di essere oggettivo, ma è chiaro che sono interpretazioni. L'interpretazione, il dato è, la Macrauchenia aveva una narice molto alta in mezzo agli occhi, come nei tapiri, quindi poteva avere una proboscida corta. Cosa serve la proboscida? Prendere qualcosa? La giraffa, guarda caso, ha questa lunghissima lingua che gli serve per afferrare i rami delle acace. Può darsi che Macrauchenia facesse lo stesso. Ok? Può darsi. È ragionevole supporre. Negli altri continenti c'erano rinoceronti, i popotami, e qui avevamo questo grosso gruppo, noto ungulati, che erano i megaerbivori dell'epoca per il Sud America, quindi grandi incisive a paletta per brucare, un po' come l'ippopotamo, però erano un po' più dritti, un po' più eretti, un po' più terrestri degli ippopotami. Una via di mezzo tra l'ippopotamo e il rinoceronte. Se guardiamo il loro cranio e guardiamo i loro denti, vediamo gli stessi adattamenti che vediamo nei ruminanti, per esempio, anche se non erano ruminanti. Per esempio i denti a crescita continua, perché l'erba coriacea tende ad abbradere i denti, a consumarli, quindi le radici sono aperte, i denti continuano a crescere, l'animale può mangiare lungo l'arco della sua vita. Negli altri continenti avevamo dei rinoceronti primitivi a gambe corte e in Sud America avevamo le stesse cose, con un altro nome, un altro gruppo, gli estrapoteri. Ai tempi esistevano degli stranissimi elefanti in Nord America e in Asia che avevano quattro zanne, i due incisivi inferiori, però anziché essere appuntiti erano a pala, erano dei cucchiaioni e vivevano in un ambiente palustre, probabilmente lo usavano per arare, per raspare, sollevare e prendere le piante di cui si nutrivano. In Sud America abbiamo un animale che non ha niente a che vedere con i proboscidati, il piroterio, la bestia fiammeggiante, che però aveva la stessa struttura, denti trituranti dietro e grossi incisivi per raccogliere a paletta. Modello unico, un'esclusività del Sud America invece sono gli sdentati. Vi parlo di tutti questi animali perché poi quando si parla dell'interscambio vedremo cosa succede a tutta questa ricca e meravigliosa fauna. Gli sdentati o xenartri, sdentati vuol dire che hanno pochi denti e si capisce, xenartro vuol dire articolazione aliena perché hanno tra le vertebre delle articolazioni molto diverse rispetto agli altri mammiferi per avere una colonna vertebrale più robusta perché di solito sono scavatori o aprono i nidi delle termiti, quindi hanno bisogno di molta forza e molta robustezza. Quando mio suocero mi ha fatto zappare l'orto volevo essere uno xenartro perché il mal di schiena era una cosa incredibile. Infatti se vediamo questo schema, un cladogramma che illustra i rapporti evolutivi tra i vari gruppi di animali, si vede che lasciamo stare i marsupiali che vengono molto prima e sono dell'Australia, però i vari gruppi di animali mammiferi che conosciamo oggi li possiamo riunire in grandi raggruppamenti anche secondo l'area di origine. Per esempio gli afroteri si ritiene abbiano avuto origine in Africa, i boreo e uteri invece nella borea, cioè nell'emisfero nord, quindi Nord America, Europa e così via. E come vedete ci troviamo quasi tutti i mammiferi. Gli unici che invece non sono né della borea né dell'Africa ma sono esclusivi, sviluppatisi in Sud America, sono questi xenartri. che a me piacciono molto perché sono particolari. Tutti conosciamo il bradipo, è diventato molto famoso anche per dei cartoni animati, comunque il bradipo arboricolo è tuttora vivente, ha degli unghioni enormi che però non servono a piantarsi, ad aggrapparsi conficcandoli negli alberi, ma servono come uncini per stare appeso senza fatica, a testa in giù, a corpo in giù. Se i bradipi di oggi si arrampicano sugli alberi per mangiare le foglie, insieme a quei bradipi lì, nel terziario, sei milioni di anni fa e così via, c'erano i bradipi terrestri che erano grandi come una piccola roulotte e tiravano giù gli alberi per mangiare le foglie. Qui vedete questi due signori, questo è il femore, questa è una manina, vi potete fare un'idea di quanto grossi potessero essere questi animali. C'era un bellissimo megaterio al Museo di Storia Naturale di Milano, mi è andato distrutto col bombardamento al 44, insieme a una ricchissima fauna sudamericana, è un grande peccato, sono rimaste le fotografie che hanno un valore storico, ma l'unica cosa che è rimasta, poi lo vediamo, è un armadillo gigante. Se andate al Museo di Storia Naturale di Milano, andatelo a vedere. Vediamo anche qui convergenze, sembra un animale stranissimo il bradipo gigante, oggi non abbiamo niente come il bradipo gigante. Eppure, quando c'era il bradipo gigante, in Sud America, negli altri continenti, soprattutto in Africa e in Europa, avevamo i calicoteri, che erano parenti dei cavalli e dei rinoceronti, e avevano più o meno una forma simile. Sono gli unici ungulati in cui gli arti anteriori sono ad artiglio e camminavano sulle nocche perché avevano gli artigli lunghi e si nutrivano molto probabilmente come i bradipi giganti. Se poi andiamo indietro all'epoca dei dinosauri, esistevano dei dinosauri giganteschi molto simili. E questo è una delle cose che mi fa piacere di essere paleontologo, vedere la meraviglia di queste convergenze e queste evoluzioni parallele. Gli xenartri ci sono anche corazzati, tuttora l'armadillo è abbastanza di successo presente anche in Centro America ed è abbastanza piccolo di dimensioni. Nel passato avevamo forme simili all'armadilli un po' più grossi, il nome dice tutto, pampateri, ovvero bestie delle pampas. E poi siccome non ci facciamo mancare nulla, questi sono i più grandi, i gliptodonti, in cui la corazza anziché essere a fasce, per cui l'armadillo sapete che se è spaventato o minacciato si appallotola per difendersi. Invece questi avevano una corazza rigida, formata di tutte queste tessere e una coda lunga che in alcuni terminava addirittura con una mazza puntuta per la difesa. Di questo è rimasto il cranio e la corazza al Museo della Storia Naturale in Milano, se volete andarli a vedere. Anche qui troviamo delle convergenze all'indietro stavolta. In Sud America c'erano uccelli giganti che in fondo avevano un comportamento simile a quello dei dinosauri carnivori e al tempo i dinosauri c'erano gli anchilosauri corazzati con la coda a mazza e i dinosauri carnivori. Convergenze. Con questo ho cercato di dare un'idea della diversità, dell'abbondanza, della varietà della fauna sudamericana evoluta in una condizione, come dicono gli inglesi, splendid isolation. Ha seguito la sua evoluzione indisturbata. Poi sono cominciate le prime invasioni. Le prime invasioni non furono come si potrebbe pensare dal Nord America, ma bensì dall'Africa. E' molto antica, 40 milioni di anni fa, dicono i mammologi. Quindi allora Africa e Brasile erano più vicini di adesso ed era possibile arrivarci con due metodi. Con i gommoni, rafting, ovvero con zattere naturali. Sembra una cosa da ridere ma i biogeografi insegnano che succede frequentemente, anche gli attualisti. E l'island hopping è passaggio da un'isola all'altra. Praticamente è più facile se ci sono delle isole che fanno da ponte. Insomma, in questo modo, sono arrivate le scimmie dall'Africa, che poi sono diverse da quelle africane, quelle africane hanno avuto la loro evoluzione. Queste sono rimaste le scimmie platirrine, scimmie urlatrici e così via. Sono arrivati dei roditori, caviomorfi, che hanno dato origine a quello che oggi è il capibara e i suoi parenti, e l'istrice americano, che non è lo stesso gruppo dell'istrice europeo. Però un altro fenomeno di parallelismo hanno evoluto indipendentemente le spine. L'istrice americano è anche in grado di lanciarle con la coda. I roditori caviomorfi, specialmente nelle isole, hanno dato origine a forme anche grandine, come potete vedere, un capibara di oggi a confronto con dei capibara giganteschi che sono entrati già loro in competizione con alcuni ungulati di cui ho parlato, del Sud America. Già questi invasori, pur non costituendo nella maggior parte una minaccia diretta per i mammiferi sudamericani, hanno avuto successo e oggi abbiamo il doppio, presenti in Sud America, il doppio di queste specie rispetto a marsupiali e altri originali. Dal Nord America i primi arrivi non sono stati, quando è emerso l'istmo di Panama, 3 milioni di anni fa, c'è stato qualcosa prima, sempre tramite il salto di isole o cose di questo genere. Uno dei primi, il più antico ritrovamento di mammifero placentale di origine nordamericana è un procionide, 7-8 milioni di anni fa, si chiama Cionasua o qualcosa del genere ma non ci interessa, arrivò in Sud America, non era di grandi dimensioni ma si trovò molto bene e gli ultimi discendenti erano grandi come un orso marsicano. Un procione grande come un orso marsicano deve essere divertente da vedere. Per la stessa via sono arrivati altri mammiferi, non sembra ma gli elefanti nuotano molto bene, per cui i primi gruppi di proboscidati arrivano in Sud America e allo stesso modo gli xenartri che sembrano tardi e lenti, e sono lenti, però sono tenaci, sono risaliti e hanno incominciato a colonizzare il Nord America, perché infatti si parla di interscambio. Queste sono le prime fasi di questo evento. L'evento o la serie di eventi che si conosce come grande interscambio ebbe inizio molto probabilmente 3 milioni di anni fa quando si sollevò completamente l'istmo di Panama e mise in connessione il Nord America col Sud America. Ecco che così si ebbe il grande interscambio, si chiama di grande interscambio proprio perché ci fu un flusso nelle due direzioni, cioè non fu una calata dei barbari, fu una calata dei barbari e una risalita di altri barbari, barbari nel senso stranieri. Poi il successo non fu lo stesso per chi saliva o per chi scendeva e di questo vedremo le possibili cause. Anche perché a quei tempi nessuno pensava di costruire muri tra il Sud e il Nord America, per cui la comunicazione era possibile. Il grande interscambio americano non fu un unico fenomeno ma si chiamano pulse, cioè furono degli episodi che ebbero dei massimi e furono almeno quattro con diversa intensità, alcuni maggiori degli altri. Il fatto che non fu continuo ma furono degli episodi con dei massimi ha fatto pensare che la semplice emersione dell'istmo non è stata l'unica, la causa scatenante per i maggiori, per le fasi più intense, ma anche dei cambiamenti climatici. I paleoclimatologi, se si dice così, americani mettono in connessione i periodi glaciali con i massimi di migrazioni, in quanto l'imprigionamento dell'acqua nella calotta glaciale avrebbe avuto due effetti. Da una parte, e questi sono dati sedimentologici, quindi sono dei dati affidabili, ragionevolmente affidabili, si sa che in occasione dei due più grandi interscambi il livello del mare si è abbassato di oltre 40 metri, quindi l'area di costa è chiaramente, voi vedete questo è l'istmo di Panama attuale, e queste sono le zone poco profonde. Togliendo 40 metri, o in alcuni casi fino a 60, di livello del mare, l'area di costa si ampia molto, quindi è probabile che le fasi più intense della migrazione siano avvenute lungo i corridoi laterali, piuttosto che lungo la catena montuosa. Inoltre, sempre i paleoclimatologi indicano che durante le fasi glaciali ci fosse stato un cambiamento del clima verso un maggiore inaridimento, per cui non si avrebbe avuto una continuità, un disegno di sopra abbiamo un periodo interglaciale in cui prevale, per esempio in bravisile come oggi, la foresta pluviale, anche lungo l'istmo. Secondo questi paleoclimatologi, lo sto ripetendo perché non date la colpa a me di queste cose, nel senso sono dati che io prendo da loro, secondo i paleoclimatologi, quindi non sparate sul pianista, secondo i paleoclimatologi durante il periodo glaciale invece si aveva una continuità di ambiente di savana, pampa, eccetera, che avrebbe permesso, essendoci questa continuità tra l'America centrale, l'istmo di Panama e Sud America, questa costanza di ambienti avrebbe favorito la migrazione, perché gli animali non si sarebbero trovati a dover affrontare ambienti troppo diversi da quello di partenza a quello di arrivo, e quindi potrebbe aver favorito, potrebbe condizionale, aver favorito le migrazioni. Chi sono i protagonisti di questo interscambio? Sono tanti, dal nord scese un po' di tutto, praticamente quasi tutti i mammiferi che conosciamo come tali, placentali, che hanno rappresentanti attuali, qui c'è l'elenco, i carnivori, quindi i canidi, felidi, orsi, procioni, i cammelli che vi ho detto sono nati in Nord America, i cammelli in senso lato, in realtà sono i lama, ma sono sempre cammelli, poi i tapiri, i pecari che sono sui formi, gli elefanti, tra virgolette proboscidati, le antilocapre che sono ungulati, cervidi, molti roditori e così via. Dal sud salgono l'opossum, il marsupiale, gli xenartri, l'istrice americano, i capibara, un solo ungulato, o pochi ungulati salgono in Nord America e non hanno grande successo e arrivano solo in America centrale. Anche qualche uccello del terrore, qualche fororacide, si ritrova in Florida, per esempio, ma, quindi ha attraversato, è andato a farsi le vacanze di lì, ma non si è fermato, cioè non hanno avuto molto successo. Soprattutto gli xenartri sono saliti. Guardando i dati, i campionamenti fossili, la frequenza, i ritrovamenti nei giacimenti e così via, se voi guardate qui ci sono le età in milioni di anni e qui l'abbondanza di specie e migratori che dal Sud America sono andati in Nord America, c'è stato un impulso notevole proprio appena dopo l'apertura dell'istmo, poi è andato calando, e quelli che invece dal Nord America sono andati in Sud America, c'è un nomino perché ci siamo andati anche noi, l'uomo, sono andati invece sempre crescendo. C'è una differenza nella reazione delle faune native agli invasori. Le specie americane che sono andate a Nord sembrano non aver causato alcuna estinzione importante. Gli xenartri, strani come erano, si sono inseriti in nicchie che non erano occupate o in cui non c'era grossa competizione. Le specie nordamericane invece in Sud America vanno a dare grandi speciazioni, si differenziano, hanno un grande successo e contemporaneamente la fauna nativa entra in crisi. Attualmente in Sud America, prima colonna, i discendenti attuali degli immigrati dal Nord America sono molti di più degli immigrati. Cioè hanno avuto un tasso di speciazione e si sono differenziati moltissimo. In Nord America i discendenti degli immigrati sudamericani sono molti di meno di quelli che sono immigrati. Cioè si è ridotta la diversità degli immigrati sudamericani in Nord America. Infatti abbiamo adesso l'Opossum, gli armadilli e poco altro. Non abbiamo più i grandi bradipi o il gliptodonte e così via. Perché la fauna sudamericana è andata in crisi? La risposta giusta è datemi la macchina del tempo. Non si può. Proviamo con le ipotesi. Tre ipotesi a seconda delle scuole di pensiero. Una scuola di pensiero ritiene che si sia stata prevalentemente sostituzione indolore o opportunistica. Cioè in pratica i mammiferi nordamericani avrebbero occupato un ambiente in cui la fauna originaria era già in declino. Altri invece, un pochino più stile darwiniano classico, ritengono o overkill, cioè massacro, caccia intensiva, oppure esclusione competitiva. Chi ha ragione? Vedremo. Secondo la teoria del declino già in atto, variazioni climatiche non ben specificate perché a volte ho letto troppo umido, a volte ho letto troppo arido, a volte ho letto umido-arido. Però qualcosa è vero che si vede che c'è un declino iniziale dei carnivori marsupiali e della fauna sudamericana in genere. Il maggior tasso di speciazione, cioè la maggiore velocità di diversificazione degli invasori o immigrati nordamericani avrebbero favorito i carnivori placentali che si sarebbero riprodotti molto di più occupando varie nicchie, come vedremo. Gli erbivori del Nord America secondo questa teoria non avrebbero avuto forte competizione con i nativi che erano già in crisi. A sostegno di questo fatto citano che quegli erbivori dei nativi sudamericani che sono resistiti all'invasione sono arrivati fino alla fine fino all'estinzione di tutta la megafauna senza estinguersi cioè non se ne sono andati poi successivamente. Questa è una ipotesi. L'overkill e la competizione in questo caso invece una linea di pensiero sostiene che può darsi che la fauna sudamericana fosse in crisi ma l'impatto dei carnivori nordamericani felidi canidi orsi una grande varietà una grande varietà di specializzazioni cervello più grande maggior competitività ricordatevi quello che vi ho detto dell'Australia potrebbe aver avuto delle conseguenze a sua volta anche a cascata sugli erbivori. Quello che si vede dalla documentazione fossile è che i mammiferi carnivori nordamericani scesi in Sudamerica sostituiscono molto rapidamente sia i carnivori marsupiali che gli uccelli del terrore. Il Sudamerica attualmente i canidi specialmente che hanno spero di dirlo giusto canidi non canidi io sono sdrucciolo i canidi specialmente hanno un comportamento complesso sociale sono molto intelligenti eccetera in Sudamerica attualmente è il continente che ospita più specie di canidi qui vedete non li conosco tutti ma il lupo dalla criniera piuttosto che il creosot una serie la volpe varie volpi di ogni genere comunque una grande varietà di canidi che si sono sviluppati in Sudamerica l'Australia ha dimostrato quanto i canidi possano essere pericolosi per i carnivori marsupiali sempre nell'ipotesi dell'overkill un altro dato che si conosce che è un dato accertato dei ritrovamenti fossili è che scarsa competizione abbondanza di prede portò è un'ipotesi il fatto è che in Sudamerica noi abbiamo discendenti delle specie americane più grandi nordamericane più grandi l'orso cacciatore che era un orso a muso corto e zampe lunghe Arctotherium che viveva in Nordamerica genere Arctotherium la specie nordamericana che scende in Sudamerica si evolve nella specie Angustidens che è un orso che come vedete non avete neanche idea di cosa possa essere peso stimato una tonnellata e mezza quindi meglio non incontrarlo mentre si va a raccogliere castagne 1600 kg di orso la tigre dai denti a sciabola nordamericana lo Smilodon fatalis che grosso modo è delle dimensioni di una leonessa o di un leone quando scende in Nordamerica area gialla la distribuzione di Smilodon fatalis scendendo in Nordamerica da origine a Smilodon populator che è un terzo più grande peso stimato circa 400 kg probabilmente il più grosso tra i felini mai vissuti felini mai vissuti perché questo aumento di dimensioni forse perché c'era abbondanza di prede più facili da cacciare non lo sappiamo è un'ipotesi il dato di fatto è che molti cioè alcuni gruppi carnivori nordamericani scendendo danno origine a specie molto più grandi di quelle di origine la maggior parte degli erbivori sudamericani va in crisi e degli ungulati nativi di cui vi ho mostrato prima la diversità per esempio i quasi cavalli eccetera si stingono perché scendono i cavalli veri resiste macrochemia resistono alcuni notongulati toxodonti e questi vanno avanti abbastanza lungo come forme come sopravvissuti gli antichi immigrati africani quelli che erano scesi arrivati in nordamerica molto prima del grande intescambio sembrano reggere meglio non hanno grosse estinzioni né i roditori caviomorfi né le scimmie però forse per questioni ambientali di adattamento a particolari ambienti specialmente alle scimmie non risalgono mai oltre l'America centrale i piccoli marsupiali insettivori non risentono di questa invasione rimangono abbondanti perché i mammiferi placentali nordamericani dovrebbero aver avuto successo a scapito sempre che fosse stato a scapito dei mammiferi loro equivalenti ecologici sudamericani un'ipotesi paleo biogeografica suggerisce il fatto che i mammiferi nordamericani hanno avuto frequenti scambi con i mammiferi euroasiatici i quali a loro volta erano in contatto hanno avuto scambi con i mammiferi africani per cui noi abbiamo una certa omogeneità di faune e la diversità è molto ampia e quindi i mammiferi nordamericani si sono evoluti in un contesto più vario più competitivo e più diversificato e quindi sarebbero stati sono ipotesi ripeto mi piace precisarlo sarebbero stati quindi più abituati a competere per le proprie nicchie avendo in continuazione degli influssi da altri continenti gli Xenartri i nostri amici bradipi e gliptodonti armadilli giganti sono l'unico gruppo che ha successo e sopporta bene l'invasione non solo resiste alla calata dei mammiferi nordamericani ma gli gliptodonti e soprattutto i bradipi giganti come mostra questa slide i pallini giallini risale e colonizza tutta l'America arrivando fino in Alaska gli Xenartri resistono molto bene e praticamente non si sovrappongono solo nelle zone ghiacciate dove c'erano i mammut ma per il resto dove non c'è qui questo era un corridoio tra aree glaciali in questa zona loro si diffondono e si diffondono molto bene arrivano fino a poche decine anzi a meno di diecimila anni fa il successo degli Xenartri viene spiegato ipoteticamente con due fattori uno è il fatto che hanno un metabolismo piuttosto basso quindi sono poco esigenti come quantità di cibo gli va bene anche cibo povero e gli va bene non hanno una necessità metabolica così elevata come possono averlo magari i cavalli piuttosto che i ruminanti quindi li rende adatti a sopportare anche carenza di cibo l'altro è la presenza di mezzi di difesa molto efficaci se sei molto forte gli scavatori sono molto forti sono tra gli animali più forti che ci siano ma questa forza immensa da un'altra parte li rende lenti cioè non possono affidarsi alla fuga come farebbe un antilope e un cavallo quindi devono difendersi in altro modo hanno sviluppato metodi di difesa differenti quello che vedete è un armadillo lo vedono tutti questa è la sua corazza la corazza dell'armadillo è fatta di tre strati cioè uno strato di ossa di scudi ossei veri e propri nel derma cioè sotto la pelle e sopra c'è uno strato di piastre cornee quindi un doppio strato quindi molto robusto pensate il gliptodonte che veniva usata la sua corazza dai nativi americani come tenda come per accamparci dentro dopo aver mangiato l'animale probabilmente e i bradipi giganti avevano una serie di tessere osse questi sono stati trovati anche mummificati con la pelle e il pelo per cui nelle grotte li ha trovati per cui Darwin li ha visti durante la crociera anche Darwin li ha visti durante la crociera del brigantino Beagle e nel derma avevano tutte queste tessere osse che quindi rendevano la pelle molto resistente e gli stessi strumenti che si usano per scavare il piccone può essere un prezzo da scavo ma può essere anche un'arma e così si ritiene che facessero questi bradipi giganti d'altronde abbiamo l'esempio attuale non è tanto farfetched il formichiere di oggi è lento non può permettersi di scappare dal giaguaro ma si difende molto bene si erge sulle zampe posteriori presenta le zampe anteriori quelle sono i suoi questi sono delle armi d'arti marziali cinesi perdonatemi e questi sono gli artigli del formichiere li può usare per difesa questa è la postura di difesa del tamandua che è un formichiere il tamandua è piccolino ma il formichiere gigante può essere un avversario non facile anche per il giaguaro l'ursone ha la sua copertura di aculei e se ne va per conto suo gli opossub molto opportunisti hanno successo anche loro e anche loro invadono il nord america entrambi sono altri due gruppi che hanno successo i pochi nativi sudamericani che salgono in nord america e hanno successo cosa succede poi alla fine dove sono finiti tutti questi animali quelli che non sono stati estinti da cause ambientali competizione overkill 12.000 anni fa si ha un altro grande fenomeno con il quale mi piaceva chiudere la storia della fauna nord americana nord e sud americana ovvero un'estinzione di massa fine del Pleistocene 12.000 anni fa gli uomini arrivano succedono due cose terminano terminano una grande glaciazione gli uomini arrivano nelle americhe e contemporaneamente a questi due fattori si ha l'estinzione della megafauna nelle due americhe in tutte e due le americhe coinvolge sia i protagonisti dell'interscambio quelli che sono saliti quelli che sono scesi sia quelli che non si erano neanche mossi in nord america si estinguono i bradipi giganti i gliptodonti corazzati ma anche i grandi carnivori le tigri dai denti e sciabola i lupi giganti il leone americano si estinguono i mammut si estinguono i cammelli in nord america si estinguono moltissimi cervi di ruminanti eccetera sopravvive l'antilo capra che è viva tuttora in sud america i mammiferi sud americani nativi sud americani di peso superiore ai 65 chili scompaiono si estinguono non ci sono più scompaiono le tigri dai denti e sciabola che erano arrivate a nord america scompaiono i lupi giganti che erano arrivati a nord america oggi il più grande mammifero sud americano vivente mi dicono essere il tapiro che arriva fino a 400 chili ma non è nativo sud americano anche se oggi lo troviamo in sud america viene dal nord america in sud america in questo caso cambia ruolo diventa un rifugio in sud america sopravvivono gruppi di mammiferi che in nord america si estinguono per esempio i camelidi i camelidi che hanno avuto origine in nord america sopravvivono in sud america con i lama non solo ma il giaguaro e il puma i genetisti stavolta mi raccontano e quindi sono genetisti gli devo credere perché hanno dati più forti dei paleontologi i genetisti raccontano che il puma che oggi troviamo in nord america derivano tutti da antenati sud americani e il giaguaro anche lui che ha tentato di risalire ma oggi è praticamente estinto in nord america pare che ce ne sia molto poche in texas o giù di lì gli zoologi se vogliono mi correggono gli orsi dagli occhiali sono di origine nord americana si sono estinti in nord america poi sono tornati a colonizzare centro e nord america passata la crisi il puma perlomeno questo ha avuto conseguenze curiose per esempio anche i cavalli hanno avuto origine la storia evolutiva dei cavalli ha avuto origine in nord america però non abbiamo più cavalli in nord america hanno occupato l'asia e l'africa con le zebbre gli asini e i cavalli poi ce li hanno riportati i conquistadores i cavalli in america i pelli rosse o i nativi americani che dir si voglia sono andati a piedi finché non sono arrivati i conquistadores gli spagnoli i cammelli hanno avuto origine in nord america e sono sopravvissuti in asia e in africa e in sud america lo stesso i tapiri il tapir oggi si trova in indocina e in sud america è una distribuzione di insgiunta molto curiosa perché era originario del nord america è migrato dalle due parti lì è sopravvissuto e altrove si è estinto quindi ci sono anche queste strane conseguenze questi giochi dell'evoluzione che rendono affascinante studiare la storia dei vertebrati soprattutto anche degli invertebrati ma io non la faccio le cause dell'estinzione di mazza e qui io sono piuttosto scettico sul dare i perché diventa molto difficile pubblicano continuamente articoli sull'estinzione dei dinosauri piuttosto che su qualsiasi altra crisi compresa questa ogni tanto contraddicendosi perché vengono fuori evidenze sempre nuove quindi si possono fare delle ipotesi più o meno ragionevoli e le due ipotesi più accreditate sono cambiamento climatico o caccia intensiva da parte dell'uomo l'ipotesi più probabile è tutte e due cosa mostra questo grafico l'estinzione nel periodo di cui vi ho parlato in Africa e in Asia ci sono state in misura molto minore in Nord America in Sud America e in Australia sono state molto più intense e più o meno in fase con l'arrivo dell'uomo non necessariamente in fase con l'arrivo dell'uomo attorno l'ipotesi ambientale indica che la crisi nella fauna americana delle due americhe precederebbe cioè c'è stata prima una crisi graduale e poi l'estinzione finale 13.000 anni fa quando arriva l'uomo se mettiamo a confronto il dato climatico con la colonizzazione umana si vede come il cambiamento ambientale precede la cultura dei primi cacciatori raccoglitori di cui si hanno abbondanti testimonianze della cosiddetta cultura Clovis però ci sono tracce di una precedente occupazione umana e anche tracce di incendi estesi che non si sa se è dovuta a una trasformazione a prateria o incendi anche col contributo umano per la caccia vi sto raccontando delle ipotesi adesso comunque sia comunque sia un altro dato è che la fauna nordamericana di oggi perché vi sarà venuto in mente che si estingue tutto eppure io ho visto i bisonti i cervi le alci il grizzly da dove arrivano sono arrivati con l'uomo in una successiva ondata dall'eurasia il bisonte europeo l'alce e così via il grizzly il lupo attuale anche loro sembra che siano arrivati ondata dalla Siberia quando ci sono state le glaciazioni lo stretto di Bering tra la Siberia e l'Alaska è emerso ed era percorribile a piedi freddino ma ce la si faceva con la pelliccia senz'altro sì inoltre visibili in aree non raggiunte dell'uomo abbiamo elementi della megafauna per esempio in isola di Vrangel dove nessuno ci va a vivere se non è cacciato a calci perché si trova a nord della Siberia in un posto infernale piccoli mammut sono sopravvissuti fino a 4.000 anni fa poi si sono estinti lì per cause climatiche questo complicatissimo diagramma è frutto di una serie è l'ultimo poi non vi opprimo ulteriormente è frutto di una serie di una review di vari studi e con dei codici colori da indicazioni sulle evidenze se è stato più un impatto umano piuttosto che il cambiamento climatico responsabile della estinzione della megafauna in pratica questo colore indica prevalenza dell'impatto umano questo prevalenza del clima qui dobbiamo lavorarci allora sembra secondo chi ha fatto questa review invece i cerchietti sono le località i campionamenti i dati ok il nero l'epoca dell'arrivo dell'uomo in bianco il cambiamento climatico intervenuto sembrerebbe che in gran parte in Europa ad esempio sia prevalente la causa climatica rispetto all'impatto umano anche perché gli uomini sono arrivati molto presto in Africa non c'è stata una grandissima estinzione della megafauna è scomparso qualcosa ma abbiamo tuttora gli elefanti i rinoceronti e così via in Australia sembra esserci una certa responsabilità umana secondo alcuni per certa fauna australiana la responsabilità umana specialmente quella più presente è fuori di discussione ma non fa parte del campo degli zoologi storico in Sud America ci dobbiamo lavorare sono arrivati anche in Sud America gli uomini ovviamente ma non è chiaro se sia stato un declino dovuto a fattori ambientali o alla caccia intensiva la risposta probabile è che le due cose insieme cioè il fattore ambientale ha innescato il declino è di sicuro l'arrivo dell'uomo in continenti che non lo conoscevano se voi andate in Antartide i pinguini vengono lì a vedere cosa fate non hanno la minima paura di voi perché non sembrate una foca a leopardo forse una foca a leopardo avrebbero paura e se ne andrebbero quindi arriva l'uomo questa bestia strana non erano l'idea è che in questi continenti la fauna fosse più facile da cacciare per cui gli uomini sarebbero entrati in competizione con i carnivori e avrebbero sbilanciato l'equilibrio preda-predatori innescando contribuendo a ampliare l'effetto della crisi dovuta all'ambiente ok grazie 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 a tutti